Il Papa, dopo la preghiera dell'Angelus, ha annunciato la creazione di 15 nuovi cardinali da 14 nazioni del mondo e 5 cardinali non elettori nel prossimo concistoro del 14 febbraio. Inoltre ha reso noto che domenica 15 febbraio presiderà una solenne concelebrazione con i nuovi cardinali, mentre il 12 e il 13 febbraio terrà un concistoro con tutti i cardinali per riflettere sugli orientamenti e le proposte per la riforma della Curia Romana. I nuovi cardinali sono Monsignor Dominique Manberti, Arcivescovo titolare di Sagona, Prefetto del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, Monsignor Manuel José Macario Donascimento Clemente, Patriarca di Lisbona, Portogallo, Monsignor Beranessus de Mereu Sourafiel, Arcivescovo di Addis Abeba, Etiopia, Monsignor John Acherly Dew, Arcivescovo di Wellington, Nuova Zelanda, Monsignor Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona, Ossimo, Italia, Monsignor Pierre Nguyen Van Nguyen, Arcivescovo di Hanoi, Vietnam, Monsignor Alberto Suarez Inda, Arcivescovo di Morelia, Messico, Monsignor Charles Maungbo, Arcivescovo di Changon, Mianmar, Monsignor Francis Xavier Krinsak Kovitahavani, Arcivescovo di Bangkok, Tailandia, Monsignor Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, Italia, Monsignor Daniel Fernando Sturla Berouet, Arcivescovo di Montevideo, Uruguay, Monsignor Ricardo Blasquez Pérez, Arcivescovo di Valladolid, Spagna, Monsignor José Luis Lacunza Maestro Juan, Béscovo di David, Panamá, Monsignor Arlindo Gómez Furtado, Vescovo di Santiago de Cabo Verde, Arcipelago de Cabo Verde, Monsignor Soane Patita Paini Maffi, Vescovo di Tonga, Isole di Tonga. Unirò inoltre ai membri del Collegio Cardinalizio cinque Arcivescovi e Vescovi Emeriti di diversi Paesi che si sono distinti per la loro carità pastorale nel servizio alla Santa Sede e alla Chiesa. Essi rappresentano tanti Vescovi che con la stessa sollecitudine di pastori hanno dato testimonianza di amore a Cristo e al popolo di Dio, sia nelle Chiese particolari, sia nella Curia Romana, sia nel servizio diplomatico della Santa Sede. Essi sono Monsignor José de Jesús Pimiento Rodríguez, Arcivescovo Emerito di Manizales. Monsignor Luigi de Magistris, Arcivescovo titolare di Nova, Pro Penitenciere Maggiore Emerito. Monsignor Carl Iosef Rauva, Arcivescovo titolare di Giubalzania, Nunzio Apostolico. Monsignor Luis Héctor Vigialba, Arcivescovo Emerito di Tucumán. Monsignor Julio Duarte Langa, Vescovo Emerito di Shai Shai. Monsignor Luis Héctor Vigialba,